Un lockdown di fatto. Così la Presidente dell'Unione Commercio, Loretta Credaro, definisce la pesante situazione legata all'emergenza sanitaria di cui ancora risente il mondo economico. Le attività hanno resistito fino ad oggi, afferma Credaro, ma rischiano di non farcela più, a soffrire maggiormente i settori del tessile, abbigliamento e calzature, della ristorazione e pubblici esercizi, estremamente penalizzata anche la ricettività alberghiera a causa dell'impennata di contagi. A confermare tensione e incertezza è anche l'indagine sull'andamento dei consumi e delle presenze turistiche realizzate in questi giorni dall'Unione, condotta contattando un campione di circa 300 imprese attive in provincia. Oltre il 50% dei commercianti del settore tessile, abbigliamento e calzature hanno evidenziato un andamento negativo dei saldi. Tra loro circa la metà lamenta un calo del 30%, con crolli anche del 50%. Forte preoccupazione anche nel settore della ristorazione, bene nelle stazioni scistiche fino all'epifania, ma difficoltà soprattutto a Sondrio per il ritorno allo smart working e la recrudescenza dei contagi. Secondo qualche operatore, la situazione attuale è addirittura peggiore di quella dello scorso anno, quando restando chiusi, gli operatori avevano almeno ricevuto dei ristori e non avevano sostenuto i costi per il funzionamento. Per bar e caffè, circa il 70% degli operatori parla di forte difficoltà. Le conseguenze più drammatiche si registrano anche in questo caso nel capoluogo. Riguardo alla ricettività alberghiera, circa il 70% parla di buon andamento fino all'epifania, soprattutto nelle località scistiche, mentre per il restante 30% i dati sono negativi. Gennaio, a partire dal 10, ha evidenziato una situazione stagnante e forte preoccupazione per il prosieguo della stagione a causa delle disdette ricevute e del calo di prenotazioni. In tutti i settori esaminati, conclude la Presidente Credaro, permane un clima di forte difficoltà e incertezza, mentre crescono i problemi nella gestione e organizzazione del personale. Per esempio, in alcune strutture alberghiere, molti dipendenti sono risultati positivi e si è dovuto chiudere perché non si sono trovati altri lavoratori da assumere e li evitano i costi. Una situazione molto dura, dice Credaro, da fronteggiare e che richiede attenzione e sostegni tempestivi e adeguati.